bene amici di telefono.net stiamo girando questo video con il samsung galaxy s advanced come vedete la ripresa la facciamo da un'angolazione diversa dal solito perché siamo contro sole in questa milano assolata purtroppo non c'è né lo zoom e nemmeno il fuoco continuo ma devo dire che la focale è buona anche avvicinandomi molto al soggetto come vedete il fuoco lo si perde quando si va proprio vicini vicini questa è una panoramica proviamo il contro sole pieno mentre torniamo a inquadrare la parte a favore di sole ripeto video che stiamo girando con samsung galaxy s advance